Volevo farti una domanda Alberto, molto determinante. Come mi trucco oggi? Allora, visto che hai questi bellissimi capelli, direi che ti colori di... verde acqua. Tadà! Tadà! Vedrò di creare qualcosa. Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video con me e Alberto, il mio ragazzo, per chi ancora non lo conoscesse. Ci sono vari video di noi sul canale, ne serviva un altro particolarmente idiota perché sennò cosa stiamo qua a fare? In realtà discutiamo di filosofia e... Algebra. Ingegneria, di meccanico, quantistica. Astrofisica. Astrofisica. Ma il video di oggi non tratterà di questi temi, tratterà bensì di io che mi trucco facendo una cosa che non sono ammettuta a fare perché di solito mi trucco sempre allo stesso modo e lui cercherà di illustrarvi i passaggi nella maniera... Più scientifica e divulgativa possibile. D'altronde non mi chiamo mica Alberto per niente. Sì, sì. Bene, vi lascio al tutorial, se avete domande tecniche lasciateli qua sotto, vi risponderò io o non lui perché almeno vi posso aiutare più concretamente. E procediamo con il tutorial! Ma come si fanno questi vai solo nero? Allora, per prima cosa mettiamo una cremina magra. Ma che mettiamo? Cioè, la mettete voi? La mette Shanna? Io non la metto, io faccio la voce e basta. Ecco, spalmatevela tutta bene bene sulla faccia, così. Anche il naso. Non guardate per aria come fa lei. Ecco la fronte. Ecco fatto. E... Bom, che carina! Poi, questo è asfalto, suppongo. Per coprire bene bene la faccia. E non lo so, spalmatevela tutta quanta così, come fa... Mmm, nice. Mazza chiodata per pettinarsi le sopracciglia. Vai con gli acquerelli. Ah no, aspetta, cos'è che è? Cos'è questa cosa? Ma che faccia fai Shanti? Ma che cosa fai sulle sopracciglia? Io non sapevo che ci si truccasse anche le sopracciglia con un pennello, poi. Oh wow, questo è un pennello davvero più grande, ma non capisco bene che cosa succeda. C'è uno spalmamento sul sottozigomo e sopra per sembrare meno pelati. Non lo so, non capisco. Cos'è? Ma anche sulle guance. Quindi cosa cambia? Ah no, hai cambiato colore. Aspetta, sembri più rosa adesso. Ancora altre cose da spennellare. Ma perché non facciamo che mandiamo più veloce? Ok, così dovrebbe andare. Questa è la prima cosa che so che cos'è in questo video. Cioè un burro cacao. Mmm, very nice. Shanti, ma che schifo, cosa fai? Eh, cos'è quella faccia? Sì, ho capito che vuoi giocare coi colori, però non si fanno i rotti così. Ah, guarda, sono io dietro, guarda. Vedete? Non guardate lei, guardate da me. Tra l'altro Shanti c'aveva tipo un pelo sul naso. Adesso non si vede più. Uh, ancora altri pennelli entusiasmanti. Mmm, questo è più piccolo. Perché ti stai sbiancando la bocca e il sottosopracciglia? Come si chiama il sottosopracciglia? Vabbè, altri spennellamenti di sottosopracciglia. Qua ho avuto un aggiornamento e ho capito che sta illuminando le parti interne dell'occhio. Me l'ha detto così Shanti almeno, poi più o meno. Altri, questi sono acquarelli veri però, quel cazzo che sono finti. Si può dire cazzo sul tuo canale? Vabbè, vabbè, non so, non lo dico più. Scusa, scusa, scusa. Oh, finalmente un ombretto, credo, color pesce tipo... No, color Ariel, sirenetta. Tra l'altro il colore è uguale ai suoi capelli pretinta. Galassia, che sono sbrillantini, suppongo. Tra l'altro da dietro c'è Shanti che si pavoneggia dicendo che all'interno ci sono dei pigmenti dorati. E poi non so, spennella di qui, spennella di là. Oh, è più scuro quello, tra l'allero e tra l'allà. È un po' color marroncino. Sembra aggiungere tridimensionalità. E poi, oh, un altro cosino che sembra la plastilina con cui ci giocavo da bambino. È un colore molto elettrico e veramente intenso. Mi piace più di qualsiasi altra cosa abbia visto finora. E osservate con quale tecnica e decisioni viene appoggiato e adagiato sull'occhio. Uh, questo è un eyeliner. È la seconda cosa che conosco in questo video che si sta appiccicando in faccia a Shanti. Si vede che hai una certa manualità con quel dito. Cioè, guarda com'è dritto, popò. Unto proprio, dè. Non sbrodola, non è lezzo. È proprio dritto, popò preciso, preciso. Guarda lì, col mignolino tattico appoggiato sulla guancia. Ed ecco che applica una matita nera sul nero, super efficace. Ah, cosa fai? No, non mettertela nell'occhio. Uh, ok, meno male. Mazzacchiudata non... Ah, no, aspetta, questo è... È più lo scopino del cesso. Però, non... Ah, ok, è il mascara. Ci sono, ci sono. Però sembra che ti fai... No, non chiudere gli occhi, non fare così, mi fai paura. Aspetta, no. Ok. Mmm, such professional. Momento spam. Nix, sono io che do la voce, quindi spam a me, paga a me, sponsorizza a me, non lei. Poi metto il reset e so figa, so bella, so fotomodella. Mmm, carina. Swishing the air, motherfucker. Wow. Sbam. Ed ecco fatto un trucco super tutorializzato da Alberto Ugato. Ti piace come è venuto questo... cosa? Cioè, anche se non sono abituata a truccarmi così tanto. Sì. Sì. Sei contento di aver scelto il turchese come colore di scelta? Assolutamente sì. Io spero di non essere turchese ancora a lungo perché non è intenzionale, per chi se lo fosse chiesto. Comunque, spero che vi abbia apprezzato questa creatura, nonostante sia quello che sia. Il talento di Alberto Ugato... Posso dire il coglia a me? Perché no? Il talento te l'aver togato in quanto make up artist professionista che vi ha dato delle spiegazioni utili per ricreare anche voi questo capolavoro Perché parlo in questo modo? Andiamo a girare in voice over Dai! Guarda me lo sanno Ma fa ridere Saluto Antonio Saluto Antonio? E' un bene, lascia stare Fate i bravi, ci vediamo alla prossima Se volete vedere qualche altro video in sua compagnia fateci sapere cosa, appunto quale argomento di alto livello intellettivo vorreste vedere trattato da questa coppia molto intelligente Vi auguriamo una magica giornata, vero Albi? No